E noi vogliamo credere a Neck, vedrai che cambierà, cambierà, questa è perdonare la nuova canzone di Neck, ma attenzione, pochi minuti dalla partenza, siamo collegati con il Gran Premio dei Carrelli, c'è Simone, Simone buongiorno! Buongiorno, ciao! Cioè, non facciamo perdere a Simone la concentrazione perché mancano circa 8 minuti all'apertura del supermercato. Allora, intanto, come sono andate le parole di qualifica? Le qualifiche. In che pitlane sei, Simone? Sono decimo. Decimo? Ah, quinta fila, quindi. Nove pensionati davanti che non possiamo capire come hanno fatto sferarci. Ah, beh, ragazzi, i pensionati... Che erano lì dalle tre del mattino, loro hanno visto Elon Musk, i satelliti e tutto quanto direttamente davanti al supermercato, è chiaro. Ti confondi? E' arrivato anche il mio cugino, è arrivato anche il mio cugino, perché tre carrelli dietro, prima che assumerano qua con la tenda, questi qua. Sì, 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 beh, ragazzi, loro sono i professionisti, tu stai parlando di gente che ha anni e anni di professionismo. Allora, la partenza alle ore 8, come avviene? Cioè, intanto, hai guanti, mascherina, casco, come sei? Guanti, mascherina, aspetta che mi sono allontanato, così tolgo un attimo la mascherina. Ok. Aspetta, ti sei allontanato però hai lasciato il carrello in posizione, in modo che... Assolutamente il carrello e il cugino che me lo cura, prima che me lo fanno scarare dietro. Ricordiamo il cugino a tre carrelli di distanza dietro? Sì, esatto. E il cugino tutti i sabati arriva sempre dopo di me, non riesce a battermi. Eh, beh, è già un primato questo, comunque, in casa. Adesso lì sono storie. Però tu allora mi dicevi che scrivi tutto a mano su un foglio perché il cellulare potrebbe mollarti, è vero? Sì, è successo il sabato scorso, mia mamma mi ha mandato un whatsapp con tutte le cose da comprare anche per lei, e sul più bello, ecco, è spento. No! E come hai fatto? Hai inventato? Vabbè, qualcosa l'ho fatto in tempo a leggerlo, ho tolto una lista di, non so, una quindicina di cose, ne ho riposate tre. Vabbè, era il pane, la carne e il latte. Cioè, quello che avresti comprato a prescindere, insomma. Diciamo che i fondamentali li hai presi. Allora, ultimo momento, poi ti lasciamo perché... Sì, stiamo... Ormai sei minuti alla partenza. Simone, ti volevo chiedere, anche voi lì nei carrelli, nel Gran Premio dei Carrelli, avete tipo le ombrelline? Eh, magari. Eh, magari. Non si può, dovrebbero stare a un metro di distanza, dovrebbero avere le ombrellone, cioè quelle che c'erano molto grande. Perché è un metro con l'ombretto gigante. Quelli dei microfoni che usano adesso in televisione. Esatto, esatto, le giraffe, quelle lunghe, perfette. Vabbè, Simone, allora, noi ti aspettiamo sabato prossimo, mi raccomando, perché vogliamo sapere come è andato il Gran Premio di questo sabato. No, no, mentre ti fai come me, prima di entrare, metti il timer e vedi in quanto riesci a fare la spesa, così ogni sabato ti migliori. Io faccio così. Ciao, Simo! Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata!